Il ballo delle punte, ma prima di muovere il primo passo si deve necessariamente vendere. Le rose sono spesso sovradimensionate e allora prima si deve diminuire il montengaggi, poi si può investire. Anche a Catana ci sarà un bel via va in attacco, in arrivo Calaio e Rosina con l'agente di quest'ultimo che conferma l'esplicito interesse etneo. In partenza Barientos che attende il solito San Lorenzo, Bergessio, fra le ultime voci che lo riguardano, anche quella degli inglesi del West Ham, e Maxi Lopez che torna dalla Samp ma interessa il Chievo che intanto ha preso Meggiorini. Entro venerdì si deve trovare l'accordo sulle comproprietà, non solo e non tanto per il Catania che ne ha ancora alcune importanti, Fedato che dovrebbe restare a metà fra Etne e Samp e Martigno che rimarrà a Verona, ma anche per le altre società. Il motivo è sempre lo stesso, capire quanti giocatori si ha in rosa per poi far partire le danze. Chi spera di non partire da Catania è Sciacca. A volte volere non è potere, bisogna chiaramente confrontarsi con la società, bisogna capire se il ragazzo può avere uno spazio e poi da lì insieme alla società andare a decidere il futuro del ragazzo senza nessun tipo di problema.